Buongiorno e buon lunedì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commettono e sostengono questo canale. Prima di tutto un grazie gigantesco a Fratello Luke per la donazione. Sei sempre un grande. Poi, devo ringraziare Max e Moderatore per gli articoli che mi hanno mandato e chiedo scusa agli altri che mi hanno mandato mail con delle domande o anche loro mandandomi materiale. Troppo la sto smaltendo un po' alla volta. Sapete quello che sta succedendo qui? Io sono impegnato anche in un'altra cosa e do un'occhiata alle mail quando ho tempo. Purtroppo mi arriva molto materiale via mail anche in altri ambiti. Quindi vi chiedo scusa in anticipo, non è mia volontà ignorarvi. Quindi appena posso vi rispondo. Grazie. Allora, al convegno per festeggiare i 125 anni dell'Inps ha parlato la Calderone. Imbarazzante è la definizione più gentile. Ha detto che l'SFL funziona e funziona in crescendo. A gennaio sarà pianamento operativo. Ha domande specifiche. Ha detto che non è vero che non ci sono offerte, che non ci sono corsi, che i corsi non partono e non è vero che non ci sono i pagamenti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza parlamentare per chiedere che la Calderone venga a riferire in Parlamento sui malfunzionamenti dell'SFL e sulla mancanza dei decreti che riguardano l'Adi. Perché secondo lei funziona tutto bene. Ma, cara Calderone, cara Caldarostaia, un conto sono le parole, un conto sono i fatti. E tra le parole e i fatti vincono i fatti. E i fatti dicono completamente il contrario. Secondo la CGL, e ogni tanto anche loro una l'azzecca, no? Soltanto il 20% delle persone iscritte alla piattaforma SISL seguendo il percorso SFL e che effettualmente stanno facendo dei corsi, programma Goli, PUC, servizio civile, quello che è. Hanno ricevuto dei pagamenti. Occhio, dei pagamenti, non i pagamenti. Cioè, magari sono tre mesi che hanno cominciato a settembre, settembre, ottobre, novembre e magari hanno preso solo novembre. Quindi non sono neanche in quello omogenei. Alcuni di voi che mi hanno scritto e mi confermano tutte queste cose, tra l'altro, che si sono iscritti a settembre, hanno cominciato praticamente a fine settembre, non hanno ancora preso niente, neanche un centesimo. E non sanno perché. Ma, secondo la Calderone, funziona tutto bene. La Calderone, ricordatevi, è la stessa persona che disse che i corsi di formazione sarebbero partiti a gennaio. Sì, ma a gennaio 2023. Qui invece sta dicendo che la piattaforma funzionerà a pieno regime a gennaio 2024. Piattaforma che è stata attivata a settembre. E, per sintetizzare il parere di uno che ne capisce, cioè mio fratello, di queste cose, quella piattaforma l'ha fatta a un diseggiato mentale. L'ho usato un altro termine, ma che non si può utilizzare qui, ecco. Uno che probabilmente si è laureato insieme al figlio di Bossi. Perché non si spiega. Perché, ringrazio ancora uno di voi che mi ha segnalato la cosa, che non solo è stata confermata, già come ha fatto delle ricerche, gli hanno confermato diversi casi, ma addirittura, sempre nel Movimento 5 Stelle è stato confermato questo problema, ci sono problemi di inserimento dei dati. Quando si inseriscono i dati, la piattaforma va in crash e dà errore di sistema. Quindi, una persona come fa a essere pagata, se non riesce neanche a inserire i dati del corso, del programma che sta seguendo? Me lo deve spiegare la calderone, eh? Perché se io sto facendo un corso, cerco di inserire i dati, mi va in errore di sistema e quindi non me li inserisce, quei dati non ci sono. Tra l'altro, la famosa struttura che avrebbe interfacciato le varie banche dati, quella sbandierata sempre dalla calderone, da quel prosciutto umano di Durigon e dalla garbatellara, non ho dimenticato, dovevo chiamarla caldarostaria, avete ragione, però le caldaroste sono buone, dai, sono buone, non so, come la devo chiamare? Cicciobrutto? Non lo so, mi vengono in mente, sono insulti isti, quindi evitiamo, vabbè. Teniamoci caldarostaria. Dicevo, questa banca dati, che avrebbe, appunto, interfacciando le varie informazioni, avrebbe accelerato tutto, reso tutto molto più fruibile, di fatto o no? Non solo c'è il problema di un corso di sistema, è che le varie banche dati non si riconoscono una con l'altra, con il risultato che non fanno passare i dati, e quindi siamo, quello che vi avevo detto, penso un mese fa, alla necessità di inserire manualmente i dati, cioè, chi sta facendo il corso lo comunica, cioè, chi sta facendo il corso, comunica i nominativi delle persone che stanno seguendo il corso, e li comunica all'Inps fisicamente, fisicamente, cioè, non c'è automazione, perché i dati sono sulle sue banche dati, ma non vengono letti da quelli dell'Inps, per aumentare la stupidità, hanno escluso i centri per l'impiego da questa cosa, quindi, tu fisicamente devi comunicare i dati, della tua banca dati, all'Inps, che li devi inserire nella sua banca dati, sempre manualmente, forzando il sistema, secondo voi questo, in questo modo, si accelerano le cose, o si allungano, e sono sempre le persone che hanno detto, che loro l'avevano pensata, che questa cosa qui, non sarebbe stato un disastro come Lampal, ragazzi, rispetto alla piattaforma SISD, Lampal, la scritta Steve Jobs, Lampal l'ha progettata Steve Jobs, rispetto alla piattaforma SISD, rendetevene conto, e Lampal come piattaforma, fa schifo ancora adesso, fa schifo, a parte che ormai è dismessa, verrà chiusa, ma ha continuato a fare schifo, fino all'ultimo momento, questo fa più schifo ancora, e tenete presente, che per ora, sta gestendo soltanto, i dati, delle persone, che si sono iscritte, al programma SFL, cosa succederà, quando ci saranno, tutte le attivazioni, relative al programma Adi, cioè, quando tutte le persone, firmeranno il patto, di attivazione digitale, che si firma, su quella piattaforma, per poter poi accedere, ai pagamenti dell'Adi, cosa succederà, perché se adesso, ne sta gestendo, 70 mila da cani, li sta gestendo, in modo indecente, cosa succederà, quando ce ne saranno, un milione e mezzo, io immagino, il disastro, perderà i dati, si bloccherà tutto, non funzionerà niente, in fondo, lo vedete, fattualmente, su, ogni volta che ce la fa, la domanda, per il bonus, per il bonus trasporti, è una lotteria, la stessa cosa, il bonus psicologo, tutte le volte, che ci sono inseriti, i dati in questi sistemi, questi si inchiodano, e questi qui, vengono a raccontarci, che questa, è una soluzione funzionante, io sono curioso di sentire, cosa dirà, sperando, ve l'ho detto, da una parte ci sono i fatti, dall'altra ci sono le balle, sarebbe anche ora il caso, che, chi ha creduto a certe balle, cominci, a utilizzare il cerebrum, e a dire, no, guarda, mi hai fatto fesso una volta, sei stata brava tu, ma se mi fai fesso due volte, allora, sono responsabile, sono io, come un tizio, che sotto il video, mi sembra ancora, solo i 24 ore, in merito all'ultima uscita, della ricotta, adesso ve le dico, velocemente, ha scritto, ah ma io la rivoto, eh vabbè ragazzo mio, la legge Basaglia, ha fatto di quei danni, che non finiscono più, perché le ultime due uscite, sono queste, sapete che l'Italia, ha perso l'Expo 2030, sinceramente, i soldi da spendere, per l'Expo, che sarebbe più utile, di investire in altre cose, perché comunque, non potevi usare, delle PNRR, mi sembra, non vorrei dire una cazzata, quindi se l'ho detta, correggetemi senza problemi, però comunque, anche se le avessi potuti usare, ci sono delle priorità, molto più avanzate, che quella, io di Expo, ne ho visto qualcuno, no un paio, ne ho visto qualcuno, e soltanto, a pensare a quello di Milano, che il giorno dell'apertura, c'erano ancora alcuni tetti, non finiti, alcuni, che facevano le foto, e poi ci facevano i ritocchi, che c'erano negli stand, ancora chiusi, e parliamo di Milano, che dal punto di vista dell'efficienza, non si offendano gli amici capitolini, è messa molto meglio di Roma, è messa molto meglio di Roma, nonostante il fatto, che abbia un sindaco totalmente idiota, però, poi basta vedere come ha difeso la cosa, Pecoraro Scagnio, no ve l'ho detto, se non la date a Roma, siete cattivi, brutti, e tutti quanti, figuriamoci come l'hanno presa bene gli altri, Roma è ecosostenibile, la verità, caro Pecoraro Scagnio, altro mantenuto di Stato, altra persona che, levati dalle balle, tieniti la tua pensione, ma sparisci letteralmente dalla politica, che fai solo un piacere a tutti, siccome la Meloni è accusato da raggi, io, continuo a chiedermi una cosa, i cinghiali ci sono ancora, vero? Sì no, perché non sono scompatti, i cinghiali ci sono ancora, la spazzatura portata via male, c'è ancora, le strade che sembrano Monte Cassino nel 44, ci sono ancora, giusto? Gli autobus che decidono di fare come i Fantastici 4, diventare la torcia umana, ci sono ancora, giusto? Posto quando ci sono gli autobus, visto che lì hanno un tasso di, mamma mia, dategli delle vitamine, perché veramente ogni 3x2 ce n'è uno che non sta bene, ecco, ce ne sono ancora, perché non è cambiato un cazzo, sapete cosa è cambiato? È che quando c'era la Raggi, un giorno sì, un giorno sì, gli raccontavano queste cose, compresi i comici, perché io me lo ricordo, Crozza con la Raggi, e ve l'ho detto, io sono una che la Raggi l'ha bastonata, non è che gliene ha passata qualcuna, io la Raggi l'ha bastonata, perché ve l'ho detto, io non guardo in faccia a nessuno, tantomeno la mia parte politica, non la tutelo, se sbaglia lo dico, non faccio come qualcun altro del mio ex partito di riferimento, ma porca miseria, le cose non sono migliorate, adesso c'è Gualtieri, e i giornali non ne parlano manco per sbaglio, lo schifo c'è ancora, però tutti i muti, perché c'è Gualtieri, Gualtieri piace ai fighetti della Roma bene, a quella gente lì, poi ditemi come fa uno a dare ancora considerazione alla stampa, ecco, comunque non avevi mezzi per farlo, si è visto a Milano, la verità è questa, se a Milano ha avuto quei problemi, a Roma immaginatevi il macello, avreste finito per mettere degli stand dentro al Colosseo, per dire, e la seconda, ed è proprio sotto quel video, che c'è quella perla del convento, io la rivoterei, vabbè, la Melonia, un convegno, non so neanche che cosa, non me ne frega niente, ci ha dovuto a far sapere che l'Italia ha intenzione di investire per potenziare l'agricoltura in Africa, ora, considerato che il settore agroalimentare in Italia è tremendamente in crisi, per i posti di lavoro, per le conseguenze di quello che sapete, per tantissime cose, ma è pesantemente in crisi, considerando che, anche se, lo dico chiaramente, noi vi abbiamo fornito, alcune delle vostre regioni, la nostra tecnologia, e voi l'avete fatto né più né meno, come ha fatto Orlando, l'avete messo in un cassetto, e venite sbattuti le balle, perché, per farla funzionare bene, c'era da fare un'altra cosa, ed è quello il vero problema, c'era da rivedere tutto il sistema idrico, italiano, cioè, va bene, la tecnologia micro goccia, ma se avete le tubature del 1902, puoi avere tutta, la dispersione è lì, non è, non ci arrivano le gocce, ecco, mettiamola così, ma perché prima non sistemi i casini in Italia, e comunque lo dico ai miei fratelli, io spero veramente che, questa estate, la situazione, una zona, come è molto cara, visto che, la terra d'origine di mia moglie, si sia normalizzata abbastanza, per poter tornare da voi, insieme ai ragazzi, di me disino, sfruttire, che sai, molto felice, mi mancate, lo scriverci è una cosa, ma star vicino a voi è un'altra cosa, non credete alle balle di quella persona, questa è la stessa persona, degli accordi con la Tunisia, finito in niente, del piano Mattei, che è una presa per i fondelli, non credeteci, e io dico semplicemente una cosa, poi chiudo, scusate, mi sono andato lungo, un vero capo di Stato, prima pulisce casa sua, poi si preoccupa di pulire quella degli altri, questa qui fa finta di pulire quella degli altri, perché non sa pulire casa sua, ciao a tutti,